Oroscopo del giorno. Lunedì, 24 dicembre, 2018. Ariete. Vantaggi per i single, in vista viaggi, e spostamenti fruttuosi. Lavoro. Siete in splendida forma fisica, è unottima giornata, per iniziare nuove collaborazioni, ma evitate di fare le cose da soli. Toro. Amore. Avete bisogno di riconquistare la fiducia in voi stessi, non cercate altrove, ma attingete la forza necessaria, guardando nel vostro cuore. Chi ha un partner datato, dovrà tenerselo stretto. Emozioni intense, e sbalzi di umore per i single, sarete affascinanti, e intriganti. Lavoro, se avete un progetto, non risparmiate le energie per iniziarlo, o portarlo a termine, i vostri sforzi potranno essere premiati. Gemelli. Amore, situazioni emotive particolarmente intense, potranno confondervi, e farvi prendere delle decisioni avventate. Attendete gli sviluppi di una situazione amorosa, che sotto le feste potrebbe cambiare. Nuovi amori in arrivo per chi è solo, le feste portano bene. Lavoro, Nettuno aiuta sui rapporti di lavoro, sulla carriera, e anche sulle occasioni. Vagliate bene ogni possibilità. Cancro. Amore, giorno davvero speciale per lamore, i pianeti porteranno in trionfo il vostro cuore. Cercate però di non dispiacere i familiari, che non fanno altro che criticare i vostri atteggiamenti. Ottima giornata per i single, per fare incontri emozionanti, con persone che non vedono da tempo. Lavoro, siate più audaci nel lavoro, e sfruttate il vostro intuito, per portare a termine importanti trattative. Leone. Amore, fate attenzione al vostro umore, che oggi è particolarmente cupo. Un amore lontano, potrebbe tornare a bussare alla vostra porta, lasciatevi andare. Oggi, i single dovranno cercare di capire, cosa vuole una persona, che si sta mostrando insistente. Lavoro, non fate molto affidamento oggi, su progetti troppo ambiziosi, al momento, meglio accontentarsi delle proposte reali. Vergine. Amore, per alcuni del segno della vergine, oggi potrebbe esserci qualche bella novità, magari una proposta d'amore importante, che segnerà l'inizio di un futuro in coppia. Anche per i single, potrebbero esserci cambiamenti, anche epocali, sorprese in arrivo. Lavoro, oggi dovrete dedicarvi un po' a voi stessi, negli ultimi tempi vi siete trascurati troppo. Staccate dal lavoro per qualche giorno. Bilancia. Amore, buone notizie in arrivo per l'amore, però, non siate ansiosi, e soprattutto, siate più riservati. Sono queste le occasioni, in cui dovete mostrare fermezza, e personalità. I single, dovranno avere un atteggiamento prudente, e attendere che passino le feste, per avere una conferma. Lavoro, giornata molto movimentata, con possibili problemi sul lavoro, che però, potrete risolvere, con la vostra consueta diplomazia. Scorpione. Amore, se volete far valere le vostre ragioni, in una discussione con la persona amata, fatelo sempre contatto. Oggi l'impulsività è inagguato, e potrebbe rovinare il vostro rapporto. Se siete single, non ascoltate i pettegoli, potreste agire in modo frettoloso, e avventato. Lavoro, Plutone, Saturno, e Giove, sembrano schierati a vostro favore, tuttavia, potreste aver bisogno della vostra inventiva, per tirare fuori il meglio di voi. Sagittario. Amore, se vivete una storia segreta, o clandestina, oggi qualcosa potrebbe mettervi in forte imbarazzo, e indurvi a troncare la storia stessa. Per molti, non sarà facile gestire la doppia vita. I singoli invece, potranno assaporare lebbrezza della libertà, non è ancora il momento di impegnarsi. Capricorno. Capricorno. Acquario. . Amore, giornata speciale per lamore, una vera e propria oasi di tenerezza vi avvolgerà. Percepirete quasi con mano, la complicità con il partner, e il rafforzamento del vostro legame. Buona lintesa su tutto. Se siete single, nella cerchia delle vostre amicizie, c'è qualcuno che vi vuole bene, ma preferisce tenerselo per sé. . Lavoro, da oggi, avrete nuove, e importanti occasioni, grazie ai pianeti favorevoli, che privilegiano i rapporti professionali. Pesci. Amore, mantenete la calma, e non date in escandescenze, se qualcosa col partner non va bene. Siate buoni, e dolci, le feste invitano a tollerare. I single, dovranno cercare di non fare confidenze ad amici falsi, qualcuno potrebbe frapporsi, fra voi, e qualcuno a cui tenete. Lavoro, inutile fare progetti utopici, piantate bene i piedi per terra, e siate razionali. Guardate le cose con obiettività. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. .